Quali sono le cause della tiroidite di Hashimoto? È una patologia autoimmune della tiroide con progressiva riduzione della funzione della suddetta ghiandola. Ne deriva infatti un quadro di ipotiroidismo con specifica sintomatologia. Attualmente per la tiroidite di Hashimoto non c'è una cura vera e propria, ma ci sono delle cure somministrate caratterizzate dalla somministrazione sostitutiva di quello che è l'ormone tiroideo. Nella tiroidite di Hashimoto si instaura un processo infiammatorio della tiroide. Si attiva infatti in maniera anomala il sistema immunitario che va ad attaccare con degli anticorpi che produce le cellule della tiroide che non vengono più riconosciute come parte del corpo umano ma come cellule estranee ed è per questo che è un processo autoimmune. Quindi la tiroide è riconosciuta come un qualcosa di estraneo e il sistema immunitario cerca di distruggere la ghiandola. In risposta le cellule della tiroide producono un processo infiammatorio cronico che sopprime la funzione della tiroide e anche la produzione dei suoi ormoni. La causa più comune di ipotiroidismo è proprio rappresentato dalla tiroidite di Hashimoto. Ma cosa scatena la tiroidite di Hashimoto e quali sono le cause della tiroidite di Hashimoto? Tornando alla domanda iniziale del video. Non si capisce ancora bene, però sembra che ci sia un'origine multifattoriale della patologia. Alla base infatti ci sarebbero diversi fattori di rischio che se presenti aumentano il rischio di contrarre la tiroidite di Hashimoto come l'ereditarietà, un eccessivo apporto di iodio, il sesso femminile, l'età avanzata oppure soffrire di alcune malattie come celiachia, diabete mellito, cron, vitiligine e artrite reumatoide aumenterebbe ulteriormente il rischio appunto di soffrire di questo tipo di problematica. Se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace ed iscriverti al canale e condividere il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!